Hola Zwir Family e bentornati in questo nuovissimo video! Avete presente quei siti cinesi dove trovate di tutto e di più ad un prezzo bassissimo ma soprattutto cose super pucciose? Ebbene sì, perché oggi in collaborazione con Banggood ho veramente un sacco di cose da farvi vedere e sono tutte stupende rime! Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine vi lascio ancora un po' il segreto perché vi lancio la nostra fantastica sigla! E rieccoci qua Zwir Family dopo la nostra fantastica sigla a scoprire tutte le cosine fantasticissime che mi ha inviato Banggood Allora innanzitutto ringrazio un sacco e ancora una volta Alessia di Banggood Insomma io con tutti questi all Banggood mi sto arredando la mia camera e presto sicuramente vi farò un nuovo room tour aggiornato Ok, cominciamo! No, prima di cominciare volevo darvi un piccolo annuncio Se non siete ancora iscritti al mio profilo Instagram fatelo alla svelta perché tra giorni magari anche a ore inizierò a postarvi sulle stories c'è una nuova funzione ovvero delle domande Voi potete farvi tutte le domande che volete e poi in un video, ovviamente nel limite della decenza e poi in un video vi risponderò a tutti Ok, cominciamo! Allora, articolo numero uno Cosa vi faccio vedere? Parto dagli squishy o parto da misto? Dai partiamo dalla cosa... Cioè ho qua uno scattolone pieno, è un attimo Partiamo dalla cosa meno, meno top E io l'ho persa Non farà un pettacolo Siccome sono alla ricerca di una cover del cellulare piuttosto comoda ma soprattutto sicura perché io ho il vizio di farli cadere e di romperli E allora mi sono fatto arrivare questa cover morbida ma c'è di più Non è una semplice cover da mettere solo sul retro perché è una cover a incastro ovvero avete due facciate avete la facciata principale quella dove c'è la cover della facciata principale che voi incastrate lo schermo e poi per tenerla ferma avete il pezzo dietro è trasparente ovviamente perché il retro del mio Samsung è purple ovvero viola, fantastico e così resta insomma resta tipo un guscio, un case ovviamente di sicurezza comunque non costa tantissimo e di tutte le cose che vi faccio vedere oggi vi lascio anche giù il link nell'info box e così se volete andare ad acquistarle potete utilizzare anche il codice che vi lascio giù nell'info box Ok, questo qua è il primo articolo cover per il mio Samsung S9 Ok, articolo numero 2 e questo adoro troppo ovviamente è stile Swirvanilla mi sono fatto arrivare un copricuscino guardate quanto è bello o al contrario, scusate è praticamente un copricuscino unicorn di un cuscino piuttosto grosso e adesso ve lo faccio magari vedere sul cuscino che ho qua in camera e questo qua è il cuscino con all'interno l'imbottitura e veramente costa pochissimo cioè non costa nulla mi sa 2 euro però è fantastica e dopo la nostra faiare al cuscino passiamo al terzo articolo e come terzo articolo mi è arrivato un cuscino imbottito a tema vi ricordate che il mese scorso mi era arrivato quello a forma di donut con tutti i confettini con tutta la granella, il cioccolato, eccetera e oggi da grande amante dei cookies mi sono fatto inviare questo cuscino quando l'ho tirato fuori era super elettrico tipo mi sono fatti i capelli al punk boy però non importa ok allora questo qua è un cuscino super morbido perché veramente morbidissimo comodissimo è fatto tipo di vellutino morbidissimo e poi lo adoro poi adoro i cookies è fantastico e anche questo qua lo trovate a pochissimi euro articolo 4 è questa cosa una cosa molto molto interessante che sicuramente faremo insieme o faremo parzialmente insieme poi vado avanti io su Banggood trovate anche su Amazon ma più su Banggood ovviamente Banggood è rifornitissimo trovate delle miniature di casette di stanza da letto di salotti insomma di tutto quello che riguarda le dollhouse e siccome io ho un sacco di lolline e quando devo fare le foto mi servono un po' di scenografia insomma qualcosa ho deciso di farvi ripare questa valigetta ma questa valigetta cosa contiene? contiene un kit di It Yourself per costruire una cameretta io ho scelto questa mi sembra oddio sì ho scelto quella col pianoforte se non sbaglio ho scelto questa qua rosa ovviamente e costruiremo insieme prossimamente la cameretta delle Lord Surprise e non vedo l'ora perché deve essere fantastica anche le luci è tutta smontata è comunque tutta incastri incollamenti vari eccetera so già che mi arrabbierò 200.000 volte ma non importa vedete è tutta fatta su kit dovete costruire incastrare però se siete interessati veramente compratele perché a parte costano poco partono dai 10 euro e arrivano fino al 30 massimo e sono bellissime cioè sono fatti in ogni minimo particolare e sicuramente le faremo insieme prossimamente ora è il momento degli Squishy Time ebbene sì per gli amanti degli Squishy da Banggood non posso non farmi arrivare i miei 4-5 Squishy per arricchire la collezione e partiamo dal primo mi sono fatto arrivare questo Danot veramente incartato benissimo questa volta questo Danot fantastico con la glassa fravolosa e tutti i confettini colorati è super slow rising guardate quanto è bello cioè ci metto oddio super slow rising dettagli però è carinissimo super puccioso con il sorrisetto sicuramente ci faccio dopo una foto su Instagram profumo del classico Squishy super invitante e veramente costano poco ci andate super good che li trovate proprio a pochissimo ok Squishy numero 1 passiamo allo Squishy numero 2 anzi mettiamoli insieme questi due Squishy perché alla fine vanno in combo ci sono anche quelle che ti dedicano ai vari Sushi ed è proprio una catena di Squishy di Squishy ciao di Squishy chiamata I Love Sushi la grande amante per Sushi questo qua è il primo oltretutto diventa anche un simpaticissimo porta chiavi e vi danno in dotazione la catenella porta chiavi ma guardate quanto è bello sotto c'è il riso sorridente e poi sopra c'è la fettina di salmone non è profumato di pesce fortunatamente e profuma di tipo vaniglia tipo di bagno sui ma qualcosa fragoloso vaniglioso buonissimo ok questo qua è il primo Sushi ah non mi sono dettato di farvi vedere il grado di slow rising medio normale ok passo al secondo I Love Sushi e questo qua deve essere un farcito avete ok vabbè è comunque sempre un simpaticissimo porta chiavi in dotazione vi danno la catenella e questo qua è un farcito al salmone con all'interno tutte le verdurine super sorridente guardiamo se per nulla solo rising perché si lascia andare subito mi dispiace perché sembravano morbidissimi e super pucciosissimi invece nada però sono carini e così comando ad arricchire tutta la mia collezione ok per quanto riguarda lo squishy time ne ho ancora uno che è spazio qui dentro eccolo e sono questi tre squishy slow rebound ovviamente vi specificano Do Not Eat perché insomma arrivo io me ne mangerei tutti questi squishy dal profumo buono che hanno dicono che è slow rising profumato come sempre buono questo che bello è stato insacchettato doppiamente e sono tutti i fagiolini all'interno c'è praticamente il baccello tutti i fagiolini tutti i pisellini dentro non dai diciamo che è un buon solo rising guarda che carini sono bellissimi cioè sono bucciosissimi e doveva diventare anche questo un portachiavi ma non mi hanno dato in dotazione della catenella aiaiaiaiaiai però sono carinissimi e anche questi vanno a finire la mia collezione e per questo super mega haul banggood è tutto io spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like iscrivetevi al mio canale youtube inoltre se siete interessati giù nell'info box trovate tutti i link che vi rimandano ai prodotti che vi ho fatto vedere inoltre altro annuncio se non mi seguite ancora su instagram fatelo alla svelta perché inizierò a postare le varie domande sulle stories e voi potete fare tutte le domande che volete e poi vi risponderò in un prossimo video io per ora anzi vi aspetto a tutti i miei social network musical.ly instagram facebook per adesso vi mando un bacio a tutti e noi ci vediamo domani con un altro fantastico video ciao ciao